In questo numero del Salus Tg aumentano in Italia i casi di HIV, fondamentali screening e percorsi di cure. Lorenzin, finalmente l'accordo sul patto della salute. Mangiare cioccolato fondante può aiutare gli anziani a camminare meglio. L'HIV, il virus responsabile dell'AIDS, continua a preoccupare il mondo medico scientifico italiano. A una forte diminuzione dei decessi associati all'HIV, fa da contraltare infatti nel nostro paese un aumento delle nuove infezioni. Ed è proprio con l'obiettivo di valutare strategie per arginare la diffusione di questo virus che si è svolto all'Istituto San Gallicano di Roma, un convegno ad hoc. Non soltanto l'importanza della prevenzione, ma anche l'importanza degli screening clinici, in modo da permettere quella che viene chiamata una diagnosi più precoce possibile. Vuol dire iniziare una terapia ancora prima e questo vuol dire limitare l'epidemia dell'infezione d'HIV. Abbiamo trovato una sintesi tra le posizioni. È una giornata straordinaria. Siamo sfiancati da settimane di lavoro. Così il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha concluso la lunga giornata di confronto con i governatori in conferenza Stato-Regioni per la chiusura del patto per la salute. È un patto, ha detto il Ministro, ad alto tasso di innovazione che garantisce certezza di budget, appropriatezza delle prestazioni e prevede l'idea di una spending interna. Mangiare cioccolato fondente potrebbe rendere più facile camminare agli anziani con problemi alle arterie e agli arti inferiori. Lo ha scoperto un team di ricercatori dell'Università Sapienza di Roma. In uno studio pilota, pazienti di età compresa, fra i 60 e i 78 anni, sono stati testati su un tapirulan, una volta al mattino e poi di nuovo dopo aver mangiato 40 grammi di cioccolato fondente o al latte. Ebbene, dopo l'assaggio di fondente, i pazienti hanno camminato in media per quasi 12 metri e 17 secondi in più rispetto alla prova del mattino. Non c'è stato alcun miglioramento invece dopo il cioccolato al latte.